A Savona, nel 1912, fu realizzata la funivia più lunga d'Europa, tra Savona e San Giuseppe di Cairo. La funivia è lunga oltre 17 chilometri, collega il porto con l'entroterra e la zona industriale della Val Bormida. Viene ancora oggi utilizzata soprattutto per trasportare le grandi quantità di carbone a servizio delle industrie del nord Italia. Nel 1926 fu ampliato il complesso e costruiti quattro scaricatori a benna. Da quel momento il carbone non venne più scaricato dalle coffe. Nel 1936 la linea fu raddoppiata e le funivie sono da decenni parte integrante del panorama cittadino e dell'immediato entroterra. Nel 1936 la linea fu raddoppiata e le funivie sono da decenni parte integrante del panorama cittadino e dell'immediato.